ciao sono il dottor max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata agli integratori alimentari ti leggerà i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali in base ai prodotti utilizzati in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie alle esperienze condivise in questo video esaminiamo l'integratore alimentare svisse donna 65 a cosa serve svisse donna 65 più a un integratore appartenente alla categoria degli integratori di vitamine e minerali è commercializzato in italia dall'azienda il fenda pines itali srl informazioni commerciali titolare il fenda pines itali srl concessionario il fenda pines itali srl categoria di appartenenza integratori di vitamine e minerali forma farmaceutica compressa confezioni svisse donna 65 più multivitamini cup 30 compresse 42 g indicazioni svisse donna 65 più ultimità un multivitaminico completo di alta qualità contenente vitamine minerali estratti di erbe naturali e aminoacidi per supportare la sana alimentazione di donne di 65 anni e oltre modalità d'uso una compressa al giorno durante o immediatamente dopo i pasti o in base alle raccomandazioni del medico la compressa può essere suddivisa a metà per facilitarne la deglutizione avvertenze non superare la dose giornaliera raccomandata contiene ferro tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni di età gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata di uno stile di vita sano se avessi dubbi o domande chiedi il parere del tuo medico per determinare se questo integratore alimentare a giusto per te leggere attentamente gli ingredienti ed evitare l'uso in caso di nota sensibilità a uno qualsiasi degli ingredienti ingredienti carbonato di calcio agente di carica cellulosa ascorbato di calcio stabilizzanti polivinil polipirrolidone polivinil pirrolidone gluconato di zinco rivestimento cloridrato di tiamina nicotinamide succinato acido di di alfa tocoferile biossido di silicio riboflavina estratto di semi d'uva vitis vinifera l di pantotenato di calcio agente anti agglomerante sali di magnesio degli acidi grassi lecitina di soia estratto secco di prezzemolo petroselinum crispum gluconato di rame beta carotene estratto secco di pomodoro licopersicone sculentum mille frutto licopene fumarato ferroso gluconato di manganese cole calciferolo cloridrato di piridossina estratto secco di foglie di tia verde camellia sinensi selle con sé estratto secco di curcuma longa l estratto secco di avena avena sativa bitartrato di colina carotenoidi luteina e zeaxantina estratto secco di salvia salvia officinali selle estratto di radice di ginseng aralia cea e panax ginseng concentrato secco di succo di papaya carica papaya estratto secco di mirtillo rosso vaccinium macrocarpone frutto complesso di flavonoidi estratto della scorza di citrus aurantium l l lisina inositolo estratto secco di zenzero zingiber officinale estratto di arancia a polpa sanguigna citrus sinensis acidopteroil monoglutammico di biotina estratto di mirtillo vaccinium mirtillus cloruro di cromo olio di menta peperita ioduro di potassio molibdato di sodio l selenometionina cianocobalamina rivestimento addensanti idrossi propil metilcellulosa idrossi propilcellulosa coloranti biossido di titanio ossido di ferro umidificante acidi grassi agente di carica talco fonte codifa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero di esserti stato utile iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo integratore alimentare esaminato